Buongiorno a tutti e bentrovati da Fabrizio Bertuzzi, una risposta per Taguerri Sportivo. Continuiamo con la panoramica sui migliori talenti arrivati in Italia e dall'estero in questa sessione estiva di calce mercato 2013-2014. A mio avviso uno dei più interessanti, per dare approfondimento alla domanda che aveva fatto Luca in maniera interessante e che secondo me avrà un discreto successo in Italia, è l'ultimo acquisto del Napoli nel mese di agosto, il colombiano del 1991 che arriva dalle studiante squadra argentina Dubazopata. Dubazopata è un centroavanti che a prima vista sembra il classico centroavanti di ripeso, come si diceva una volta, quelli che si fanno spazio in aria, fortissimo di testa grazie perché è uno stornello, come si dice a Bologna, di quasi 190 cm per 85 kg, 84 kg, un fisico imperiale, strutturato benissimo anche a livello muscolare, proprio come spesso il gene amerindio della Colombia permette a questi ragazzi di presentarsi atleticamente in maniera strabordante. Abbiamo l'esempio già di Barbo, anche se Barbo canaritano è molto più longilineo, di Dubazopata, però Dubazopata non è solamente un centroavanti fisico ma è anche piuttosto agile, velocissimo, riesce ad avere una frequenza di scatti di proiezioni offensive notevoli, tant'è che dopo un iniziale percorso nel Calì in Colombia, attraverso il quale si era addirittura proposto nell'inizio della sua carriera come mezzale offensiva, neanche come centroavanti, questo grazie proprio alla sua velocità e al suo discreto destro, e poi dopo la capacità di sfruttare e di prendere posizioni grazie alla sua struttura posizioni in area e avere sempre l'anticipo sullo stopper, sul difensore proprio nella battaglia che si svolge spesso nell'area di rigore, hanno pensato bene di proporlo come primo centroavanti. Dubazopata è nel campo internazionale che si sviluppa maggiormente, si esprime già nel torneo di Tolone, ma già prima nel 2011, nel mondiale 2011, in Colombia proprio, quello vinto dal Brasile, della famosa tripletta di Oscar, quello che è andato al Chelsea, Dubazopata faceva la panchina, era il primo cambio di Luis Muriel, in quella bellissima nazionale che giocò molto bene, però fece tre apparizioni ma già lasciò il segno, segnando proprio contro il Messico, lasciò il segno soprattutto successivamente al torneo giovenile di Toulon dove segnò e diede sempre dimostrazione di avere questa combinazione tra stazza fisica e atletismo quasi debordante. Un ragazzo che già dai primi test fisici nel Napoli ha stupito tutti proprio per questa capacità di resistenza ma per questa notevole progressione. Palla al piede è discreto, riesce a, diciamo, il suo gesto tipico come viene imbeccato è l'opportunità di essere imbeccato in infilata, proprio correndo nelle corsie centrali perché ha questa capacità di prendere in anticipo il difensore e una volta che ha preso i primi metri è difficile togliere le palla perché ha un buon controllo e come ripeto ha questa massa che utilizza in maniera equilibrata. Dal punto di vista acrobatico sa il fatto suo, l'unico difetto che trova questo ragazzo che comunque ripeto è il 91 e che deve sviluppare meglio l'ambidestrismo perché utilizza a mio avviso solo bene, in particolare esclusivamente il destro, però insomma vedo che ultimamente ha fatto dei miglioramenti e l'opportunità, che perché in Italia sarà molto 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 importante, di sviluppare un dribbling diciamo efficace nell'uno contro uno perché questo un po' a mio parere gli manca, ragazzo che come vi dicevo va via di potenza, va via di dinamicità, ma gli manca un po' di fantasia nel dribblare l'uomo e in Italia quando devi sfondare delle difese arroccate magari con due linee da 4 se non una linea da 4 e una da 5, se non hai un po' di mosse che esulano dal binario verticale si rischia di far fatica. Comunque questo è anche un ragazzo che è abituato a giocare nel 4-2-3-1 in Argentina nelle Studiantes e con Pellegrino, quindi io credo che questa anche omogeneità di modulo con Benitez lo favorirà. Se potrà coesistere con Higuain, secondo me sì, non dobbiamo dimenticare che Higuain nasce trequartista ed è un attaccante molto tecnico, quindi è probabile anche che Benitez lo misurerà un po' più arretrato magari dietro a Zapata, Zapata che è comunque un ragazzo intelligente, non è uno statico. Ultima cosa è l'aspetto mentale che mi piace molto di questo ragazzo colombiano, è un ragazzo generoso che crede tantissimo nel pressing dell'attaccante, mi piace anche, adesso non so se peggiorerà o non peggiorerà, si modificherà la sua espressività in Italia, mi piace anche questo suo modo di esultare in maniera non necessariamente coreografica, piuttosto essenziale, è un colombiano un po' con qualche influsso teutonico, questa sua essenzialità credo e determinazione e credo che gli sarà molto utile anche in Italia, anche se sappiamo quando ci sono queste traslazioni tra Colombia, tra Sud America ed Europa, sono tantissimi gli aspetti aleatori che vanno ad inficiare, ad incidere, sull'effettivo successo o meno poi nel nostro campionato. In ogni caso questo di talento ne ha, ha soprattutto la madre natura che l'ha dotato di un'potenza non frequente e credo che Duva Zampata saprà metterla a profitto in un contesto molto tecnico come quello del Napoli. Con questa pillola su Duva Zampata 1991, attaccante colombiano, abbiamo concluso per oggi, una risposta per te Fabrizio Bertuzzi, Guerri Sportivo.